Siete pronti? 7 settembre 2012. Siete pronti a diventare degli autentici co-creatori ispirati da Dio? Traduzione di Madda Cermelli. Amati Maestri. Ci sono state molte discussioni sull'integrazione del cervello destro e sinistro del genere umano come parte del processo evolutivo di ascensione. È importante che comprendiate che fino a quando vi trovate nei campi vibrazionali della dualità o separazione, non unificate completamente le aree ed espressione dell'emisfero cerebrale destro e sinistro. Tuttavia, quando attingete alla vostra sacra mente, che si trova nella parte superiore e posteriore della testa, voi attingerete ad un ambiente di quinta dimensione dove risiede la coscienza di unità. In quella zona eterica del cervello, tutto è unificato, non vi è separazione. L'emisfero destro ispirato dalla Dea è sempre alla ricerca di interazione amorevole, emotiva ed espressione creativa attraverso la coscienza dell'anima. L'emisfero sinistro, la mente maschile è più interessata ai fatti concreti stabiliti attraverso il piano materiale della coscienza, che crea una coscienza duale di tira barra molla. La vostra anima e se superiore operano all'interno di una realtà senza limitazioni di tempo e spazio, mentre la coscienza dell'ego è limitata dal tempo e dai limiti strutturali. La matrice barra piano divino del passato e del presente sta rapidamente giungendo a conclusione. L'esperienza sperimentale della dualità e separazione o viene modificata, armonizzata, integrata o viene eliminata. Non siete in grado di giudicare quello che succede nel campo negativo della dualità senza uscire dallo stretto sentiero dell'equilibrio, mettendovi pertanto sulla scena dell'azione, che giudicate immorale o cattiva. Ricordate, l'ego mente è intrappolato nei livelli più densi della polarità, ed il giudizio è il risultato di una mente polarizzata. Ci sono campi vibranti di energia della coscienza all'interno di ogni livello dimensionale, che ospiterà e convaliderà sempre il grado di consapevolezza di una persona. Vibrazioni di basso livello indeboliscono il corpo fisico, perché c'è meno energia di forza vitale barra luce disponibile. Dovete continuamente sforzarvi di controllare la personalità del vostro corpo egoico. La vostra esistenza triquadridimensionale è uno stato di coscienza alterato uno stato ridotto che rappresenta soltanto una piccolissima parte del vostro potente e magnifico se divino. Negli stradi iniziali della vostra autoconsapevolezza, il controllo della personalità dell'ego è molto forte. Il vostro desiderio e volontà a seguire gli ammiccamenti del sé spirituale devono essere ancora più forti. Mentre il sentiero della rettitudine diventa più stretto, dovete lottare per le scelte più elevate in tutte le decisioni. Quelli di voi che sono fermamente sul sentiero di luce stanno ripulendo non soltanto tutta l'energia negativa distorta conservata nel proprio vascello fisico ma anche qualsiasi energia del piano astrale inferiore ancora presente nel proprio campo aurico. I tre piani astrali inferiori contengono il sistema di credenze della coscienza collettiva. Vi state scollegando ed andando oltre quella zona di influenza mentre vi sforzate di raggiungere modelli energetici più equilibrati, armoniosi. Così facendo, è importante, che diveniate osservatori del processo. Dovete osservare ed attendere pazientemente finché la vostra opportunità di servire diventa molto chiara per voi. Dovete anche modificare le vostre priorità per adattarle ai vostri sogni, e dovete avere fiducia in voi stessi e nel piano divino, che attende di compiersi. È una pietra miliare importante quando la paura del cambiamento si trasforma in entusiasmo ed anticipazione di ciò che il futuro ha in serbo. Siete abbastanza coraggiosi da scegliere la vita che desiderate? Mentre vi spostate più in alto sul sentiero dell'illuminazione, non sarete più interessati ai piccoli drammi della persona intorno a voi, perché non contenete più le frequenze inferiori dell'attaccamento. Il vostro punto di vista più elevato di Maestri del Se vi consente di vedere il dramma triquadrimensionale in corso come osservatori e non come partecipanti. Il processo iniziale di ascensione o innalzamento dei vostri modelli vibrazionali è un fattore importante per accedere ai campi dimensionali superiori della coscienza. Per prima cosa, vi riconnettete con il vostro Se spirituale fisicamente incarnato, poi con la vostra superanima Se superiore ed il vostro doppio eterico, che risiede nella vostra piramide di luce personale. Una volta completate queste tre fasi, siete pronti ad entrare sulla scorciatoia dell'ascensione. Rimanere centrati nel Sacro Cuore barra Mente consente l'accelerazione della crescita spirituale barra intellettuale. Ogni anima alla fine attingerà il proprio potenziale di genio, che è custodito all'interno della Sacra Mente. Questo tesoro di saggezza si trova nei livelli di frequenza superiori del cervello. Il quoziente del genio è la capacità di agire e reagire in modo individuale, originale attraverso le scelte che fate. Determina come vi adattate alle circostanze e come esprimete la vostra individualità. Dovete cercare la stabilità emotiva ed i piani della mente è superiore al fine di esprimere l'amore intelligente. Un atomo semenza della pura essenza del Creatore risiede nel vostro Sacro Cuore. Rivelazioni di grande importanza vengono fatte e la vostra connessione con la sorgente del tutto diventa più intima quando iniziate a sentire questa essenza di puro amore nel centro del vostro Sacro Cuore. Ricordate, voi magnetizzate a voi l'energia ed irradiate energia dal vostro centro solare di potere anteriore e posteriore. Man mano che la vostra firma energetica diventa più raffinata ed in sintonia con le frequenze più elevate di luce, continuerete ad attirare una parte della sostanza di forza vitale primaria a mezzo spettro fino a quando rimanete in un ambiente di terza-quarta dimensione. Tuttavia, si mischierà e infonderà con le particelle adamantine di luce a frequenza più elevata, e sarà automaticamente trasformata dalla vostra intenzione amorevole in energia di frequenza superiore mentre allineate il vostro libero arbitrio con la volontà di Dio nostro Padre barra Madre. I raggi luminescenti multicolori contribuiranno ad integrare ed equilibrare i modelli di frequenza più elevata della coscienza galattica. Più equilibrate, armonizzate e rafforzate il sistema dei vostri Cacra, più luce divina sarete in grado di assorbire. La colonna vertebrale alla fine diventerà una barra di luce barra potere attraverso cui i flussi dell'essenza del bianco fuoco del Creatore possono fluire senza ostacoli, per cui il processo di ascensione sarà notevolmente accelerato. Il Creatore Supremo è puro amore il massimo stato dell'essere. Ogni scintilla divina di luce contiene un atomo semenza della coscienza non diluita del Creatore, le particelle adamantine di luce. Queste scintille di divinità contengono l'amore, la volontà divina e la saggezza per creare ogni cosa esistente e passata, presente o futura. Questo atomo semenza è stato messo nel centro della vostra cellula divina con nucleo di diamante per questa esperienza subuniversale. L'atomo semenza interiore della visione ed intuizione deve essere aperto gradualmente messo chiaramente a fuoco. Gli atomi e le molecole sono sistemi solari in miniatura con un nucleo centrale ed elettroni orbitanti, ma sono in gran parte composti da spazio. Il nucleo e gli elettroni non sono materia solida, ma forme di energia, energia che prende forma. Tutte le forme ed i modelli geometrici possiedono una firma energetica. Il Creatore Supremo ha fornito la materia prima e le formule per ogni creazione immaginabile. Insieme agli dei Creatori Elohim, il Regno Angelico ed i grandi costruttori di forma, a voi, quali co-creatori autoconsapevoli, fu dato l'ordine di andare avanti e creare mondi senza fine. C'è un tema fondamentale per ogni esperienza subuniversale, tuttavia, l'esecuzione del piano divino viene lasciato ai genitori divini di ogni subuniverso. Il primo impulso come scintilla divina della coscienza individualizzata fu la volontà barra desiderio di creare. Ogni scintilla divina ricevette barra riceve la consapevolezza cosciente del sé, ed anche la capacità di manifestare all'interno dei piani materiali della coscienza, ed il diritto di scegliere cosa creare. Tuttavia, insieme a questo dono meraviglioso c'era il requisito, che ogni anima deve sperimentare le proprie creazioni, siano esse positive o negative. All'inizio tutti i nuovi sforzi creativi sono di tipo aperto. Tuttavia, dopo che il piano divino è stato svolto in tutte le sue magnifiche variazioni, è iniziato il processo di ascensione per le anime illuminate. Voi siete nel bel mezzo di uno di questi periodi straordinari. Il tempo viene definito da unità di maggiori o minori pulsazioni, che vengono emesse come onde di modelli energetici di pensiero e pensieri semenza cristallizzati, che ebbero origine dalla mente di Dio nostro Padre barra Madre. Queste onde e pulsazioni vengono sperimentate come periodi e cicli di tempo. Esse vengono emesse come grandi esplosioni di luce, che irradiano con forza fuori nel grande ventre cosmico dello spazio, dove vengono cullati e nutriti dall'amorevole essenza di nostra Madre Dio. Durante questa fase critica dell'evoluzione barra ascensione è imperativo, che comprendiate il processo di utilizzo delle leggi universali della manifestazione per poter rivendicare ed usare al meglio le vostre capacità co-creative. Vi viene offerta un'occasione d'oro di unirvi alle file dei grandi costruttori di forma. Faremo pertanto un ripasso di alcuni dei passi più importanti del processo co-creativo. Vi suggeriamo inoltre di rivedere o studiare le illustrazioni per costruire la vostra ruota della creazione a dodici raggi barra il vostro fiore della vita personale, che abbiamo dato alla nostra messaggera un po' di tempo fa. Queste illustrazioni possono essere trovate nel nostro manuale di studio Reference and Revelations Glossary and Illustrations RH. Se avete seguito le nostre istruzioni, avete creato la vostra piramide di luce barra potere nella quinta dimensione, e siete assidui frequentatori della piramide di luce, che contiene un doppio olografico della Terra. Molti di voi si sono anche uniti per creare piramidi di gruppo per scopi specifici, ed avete anche creato varie piramidi per progetti speciali al fine di attirare l'essenza della creazione necessaria per portare le vostre visioni a realizzazione. Sappiate questo in ognuna di queste piramidi voi avete lasciato un doppio eterico di voi stessi, che costantemente integra gli specifici modelli geometrici di luce necessari per creare la vostra nuova realtà sulla Terra, ed anche per gettare le basi per la vostra nuova esistenza nei regni più elevati, più raffinati. Siete attivi non solo nel mondo fisico, avete anche molti aspetti del vostro sedivino nei regni superiori con i quali state interagendo. Non vi abbiamo detto che state diventando esseri multidimensionali? Vi abbiamo dato istruzioni dettagliate e tecniche passo passo per accedere alle frequenze della città di luce nella vostra zona tramite la vostra piramide di luce personale. Praticando il respiro dell'infinito, voi colmate il vostro doppio eterico ed il vascello fisico con le particelle adamantine barra particelle divine di luce. Adesso raffineremo ed aggiungeremo altri componenti al processo. Vi siete chiesti perché alcuni anni fa vi abbiamo dato istruzioni di ispirare luce ed espirare amore quando andate nella piramide mondiale con l'intenzione di radiare amore barra luce verso l'umanità ed il mondo? Quando ispirate luce, voi immettete le particelle adamantine nel vostro sacro cuore, quando ispirate amore incondizionato barra amore sacro, le particelle adamantine della pura essenza divina sono potenziate o incendiate dal vostro amorevole intento così che possono essere usate per il bene supremo. Voi siete i ricettacoli di queste particelle divine, ed il vostro amore è l'attivatore. Visualizzate questo durante la meditazione o in un momento di tranquillità, preferibilmente due volte al giorno, mattino e sera, fate dodici respiri dell'infinito completi, e dopo il dodicesimo, tirate indietro l'addome e trattenete il respiro per un istante o due. Ora, mentre fate il respiro successivo il tredicesimo potete ricominciare il conteggio da 1 vedetelo sgorgare dal vostro centro solare di potere sacro cuore nella parte anteriore del vostro corpo. Il segno dell'infinito adesso è in una configurazione orizzontale anziché verticale. Nell'inspirazione, il primo anello piatto si estende verso l'esterno davanti al vostro corpo e nell'espirazione, il secondo anello si estende nella parte posteriore del vostro corpo, completando il segno dell'infinito. Inspirate ed espirate sei segni dell'infinito, e mentre lo fate, essi automaticamente creeranno un modello di dodici annelli, che vi circonderanno completamente come i petali di un fiore. Dopo aver espirato l'ultimo anello trattenete nuovamente il respiro per un attimo primo di riprendere a respirare normalmente. Poi inspirate ed espirate consapevolmente mentre visualizzate l'essenza del Creatore, che fluisce da voi fuori verso il mondo. Visualizzate inoltre spirali di luce, che vi connettono alla piramide mondiale e alle molteplici piramidi, che avete creato nelle dimensioni superiori, condividendo in tal modo le vostre particelle d'amore barra luce con il mondo ed alimentando contemporaneamente le vostre visioni con la sostanza divina di forza vitale di tutta la creazione. Prendetevi qualche minuto per completare questo processo sacro concentrandovi sul centro del vostro sacro cuore per poter sentire la pienezza e l'amore travolgente, che fluisce in tutto il vostro corpo. Siete connessi al fiume della vita, che contiene una fonte inesauribile di particelle adamantine. È tangibile, amati. È reale, ed è la più meravigliosa, beata sensazione, che mai sperimenterete mentre vi trovate nel vascello terreno, perché state sperimentando la pura essenza d'amore del Creatore. Mie coraggiosi, non temete il futuro, perché quando il vostro cuore e le vostre intenzioni sono pure, voi siete al sicuro nello splendore e nella protezione della luce del Creatore. Non vi diremo che non ci saranno periodi stressanti davanti a voi, perché dovete attraversare il sentiero della polarità e dualità per raggiungere l'altopiano della pace e dell'armonia. Ci saranno sempre difficoltà, lezioni ed opportunità per espandere la vostra coscienza mentre integrate una maggiore quantità della vostra Divinità. Sappiate che le situazioni o i problemi che incontrate sul vostro cammino per la risoluzione non possono essere risolti al livello in cui sono stati creati. Dovete portarvi al di sopra dei conflitti del Sego ed osservare ogni situazione attraverso un filtro d'amore e dal punto di vista di un Maestro del Se. Visualizzate con l'occhio della mente una pienezza, che non è mai stata distorta, un mondo senza imperfezioni ed uno splendente, perfetto voi che risiede in questo Paradiso. Non è tempo per i deboli di cuore, per l'indecisione o la negazione, perché il vostro mondo sta radicalmente cambiando, che ci crediate o no non è tempo di accettare i doni, che vi stiamo offrendo in modo, che possiate andare verso il futuro con grazia e gioiosamente. È nostra immensa gioia ed onore aiutarvi e servirvi, e non dimenticate mai che siete amati incondizionatamente. Io sono l'Arcangelo Michele. Trasmesso tramite Ronna Herman.